Parliamo ora di idee imprenditoriali innovative in una gara che porterà delle idee progettuali a livello nazionale. Ce ne parla Cristina Cossu. Imprenditori in erba in gara per presentare il progetto migliore. È accaduto ieri, 25 ottobre, alla finale della Star Cup Sardegna 2022. La competizione è organizzata tra gli Atenei di Sassari e Cagliari, che vede i partecipanti sfidarsi a colpi di idee imprenditoriali. Un evento che ha lo scopo di favorire, nell'isola, la nascita e lo sviluppo di imprese che, nel loro percorso innovativo, diano valore anche alla regione che le ospita. Tra le nuove idee selezionate per la finale, ci sono state, ad esempio, quella che permette di rivelare le fake news e bloccarle prima che si diffondano in rete, o rivestimento per superfici in grado di limitare la trasmissione dei patogeni. Alla fine, il progetto che più di tutti ha stupito e conquistato il pubblico è stato quello di Wordly, una community informativa rivolta a un pubblico under 35. La Wordly è una start-up che si occupa di informare i giovani. Quindi ciò che andiamo a fare noi è che abbiamo creato una community che possa avvicinare i ragazzi a quella che è l'informazione di tutti i giorni e che possa informarli sia sui loro argomenti di interesse, sia invece sulle tematiche di loro scarso interesse nel solito. Noi comunichiamo ai giovani, ma ci serve anche l'aiuto dei miti tradizionali per fare un'informazione completa a 360 gradi. Quindi assolutamente non è la fine dei miti tradizionali, anzi, serve unire tutti e due i mondi. Ai primi tre classificati, che hanno anche ricevuto un premio in denaro, non rimane altro adesso che prepararsi ad affrontare la competizione nazionale.